Prova e c'è l'Ivola! Mercoledì 21 agosto 2013 allo stadio Robbiano Piola siamo con Alessandro Turone che è il vice allenatore dell'allenatore in seconda. Come ti definiresti Alessandro? Un collaboratore che in questi ultimi tre anni sta facendo esperienza e spero di continuare per altri anni perché comunque vorrei rimanere qua per un po' di tempo. Un umile operaio nella vigna della Provercelli ma insomma umile e molto bravo perché già l'anno scorso avevamo fatto conoscenza, tu ti dedicavi allo studio degli avversari e anche alle situazioni palle inattive, difese. Quest'anno è cambiato il tuo lavoro? No, perché il programma è rimasto lo stesso quindi direi che il mio impiego è il medesimo dell'anno scorso. Speriamo di farlo ancora meglio e di ottenere risultati importanti. Ascolta Alessandro, tu hai il patentino per allenare fino a? Io posso allenare fino all'interregionale e fare il secondo in serie C. L'anno scorso ero tesserato come collaboratore tecnico in quanto non avendo l'altro patentino non potevo risultare come allenatore in seconda. Diciamo nei tuoi obiettivi, nei tuoi sogni che dovrebbero e si concretizzeranno anzi e la situazione è quella di avere poi nel tempo una panchina ed essere il primo allenatore. Certamente, so che bisogna fare la gavetta, io cerco di impegnarmi, di mettere tutto me stesso per raggiungere un po' l'obiettivo che è quello di un domani allenare una squadra in prima persona. Ecco, tu negli ultimi anni hai visto i cambiamenti nel mondo del calcio per quello che riguarda le situazioni tattico-tecniche-atletiche. Ecco, quali sono, se possiamo dire, le nuove tendenze? Cioè, grande atleticità, grande corsa, grande preparazione e, se possibile, la precisione? Sì, rispetto a tanti anni fa, adesso si bada tanto alla forza fisica, alla corsa, mentre magari prima si prediligeva alla tecnica. Abbiamo visto quest'anno la differenza che c'è stata tra Lega Pro e la Serie B, una differenza fisica molto importante e che noi purtroppo abbiamo pagato a duro prezzo, speriamo quest'anno di ritornare in una categoria che secondo me ci siamo rimasti talmente troppo poco e quindi con poca esperienza, magari consapevoli degli errori che sono stati fatti, sicuramente avremo un approccio migliore. Quali sono le tue sensazioni quasi al termine della fase di preparazione e di in prossimità dell'avvio di campionato? Le sensazioni sono buone. Poi, essendoci ancora il mercato aperto, secondo me un po' ti distoglie, perché comunque certi giocatori, essendoci ancora il mercato aperto, magari ha la speranza di andare via e comunque sia, secondo me il nostro mercato non è ancora chiuso né in uscita né in entrata, quindi ci sono ancora dieci giorni per potersi assestare, completare, insomma una rosa già importante. Ecco, non voglio metterti in difficoltà, però vorrei farti una domanda, dammi la tua risposta, la tua impressione personale sull'ipotesi di sciopero per quello che riguarda la prima giornata di campionato di Lega Pro. Tu quando hai affrontato il calcio giocato eri impegnato nella situazione italiana calciatori? Allora, io ho vissuto una cosa simile quando io giocavo nel Mestre, che avevano provato a mettere l'obbligatorietà di far giocare gli 83, mi ricordo, e non siamo arrivati a fare lo sciopero, ma proprio una settimana prima che iniziasse il campionato è stata tolta questa regola e quindi siamo partiti normalmente. Io dico che è una regola a mio avviso anticostituzionale, poi se dovessimo giocare con queste regole ci adatteremo, però insomma non è una cosa bella. Ecco, un'ultima domanda perché nei forum dei tifosi è corsa anche questa voce. Supponiamo che la selezione italiana calciatori ribadisca lo sciopero. La Pro Vercelli comunque andrebbe a Lumezzane, il Lumezzane si potrebbe presentare, noi perderemo la partita a tavolino, potrebbe andare così o questa è l'ipotesi della irrealtà? Ma non lo so perché è una cosa talmente strana che secondo me spero che non si arrivi ad uno sciopero, spero che si arrivi a un accordo, magari alzare l'età media di un paio d'anni, per arrivare a un punto d'incontro anche perché secondo me fare sciopero, poi non tutte le società come al solito non saranno d'accordo e quindi non presentarsi vuol dire perdere punti, insomma è una cosa un po' difficile. Ringraziamo Alessandro Turone, gli auguriamo in bocca al lupo e come sempre Forza Pro! Ringraziamo Alessandro Turone, gli auguriamo in bocca al lupo e come sempre Forza Pro!